l'entusiasmo che mi hai trasmesso in quei momenti che non ricordo per non essere presente ti voglio bene, ottavo via grazie, buona giornata a tutti e mi chiede che amai è un anno di molta tristeza e dà un pezzo a questo questo grande di Diego e Marco Maradona che non sarà sempre viva in nostro cuore voglio ringrazzare a tutti per tutto che hai fatto per noi per noi perché la storia sarà sempre viva Diego sarà sempre viva in nostro cuore in nostro cuore bai a tutti i ragazzi se vede a me ciao Diego grazie a tutti grazie a tutti